Musica Amici di Londra Libera TV siamo all'alberghiero di Pesolo, all'istituto Santa Marta, dove si è appena conclusa un intervento nell'ambito dell'iniziativa Corto e Mangiato. Siamo qui con il presidente della cooperativa Gironomoni e con Ugo Barei che è il titolare dell'Ecotel di Monsano Pineta. Allora abbiamo due esempi che ci mostrano che non è vero che con la cultura non si mangia, ma la cultura può generare nuove iniziative economiche che ci possono trasportare verso il futuro. Ecco iniziamo con Ugo Barei che ci illustrerà la sua iniziativa e la sua attività economica. Sì, la cultura è molto importante, ma la dedizione e la passione per quello che si fa purtroppo e le tante ore lavorative contribuiscono poi al risultato finale. Bisogna voler bene a quello che si fa è fondamentale. Noi abbiamo costruito un albergo ecosostenibile, un albergo che si basa su energie rinnovabili come il fotovoltaico, il solare termico, la classe energetica A dell'edificio che chiaramente generano un profitto e ottimizzazione di costi. Tutto questo dando gli stessi servizi ai nostri clienti che apprezzano molto la struttura, una struttura costruita tutta su un piano, una struttura moderna, tecnologica e proiettata al futuro. 80 camere, come dicevo tutto su un piano, la possibilità di parcheggiare davanti all'abitazione, un impianto fotovoltaico da 200 kW, una struttura estremamente moderna, nessuna lampada tradizionale, tutto led e basso consumo. Buone considerazioni da parte dei clienti, lotta continua per poter rimanere in piedi in un paese con grandi difficoltà. Un'altra domanda, sappiamo che queste nuove logiche di produzione e di economia stentano a partire in Italia. Ha avuto particolari difficoltà nell'attuare questa iniziativa, di tipo burocratico, di tipo amministrativo? Beh, sentivo ieri alla televisione che in Italia ci sono 120.000 leggi, in Inghilterra ce ne sono 3.000, chiaramente questo ostacola a me come tutti gli altri imprenditori, però non particolarmente per il tipo di struttura che abbiamo fatto. Probabilmente in Inghilterra ci avremmo messo 15 giorni a ottenere i permessi per costruire in Italia, ci abbiamo messo 8 mesi, però siamo in Italia, dobbiamo lottare con questo sistema e cerchiamo di andare avanti. Gironomoni, il suo intervento è basato sul biologico e sull'attività della cooperativa Gironomoni. Allora, ci puoi ricordare come è nata questa iniziativa e come avete organizzato la produzione? La nostra cooperativa è nata da una serie di iniziative culturali, lei prima diceva che non è vero che con la cultura non si mangia, è proprio così. La nostra cooperativa è nata da una serie di iniziative culturali per la valorizzazione di quelli che erano i valori dell'antica civiltà contadina. Si sono fatti incontri, convegni, spettacoli teatrali e le prime produzioni di un nuovo metodo di agricoltura di cui si iniziava a sentir parlare nel nord Europa, che era quello dell'agricoltura biologica. E sull'agricoltura biologica è stata poi basata tutta la nostra attività. In un momento in cui i giovani abbandonavano le campagne, in particolare il nostro paese, Isola del Piano, un gruppo di ragazzi decide di vivere lì e lavorare lì e costruire questa cooperativa, che si è specializzata poi negli anni nella produzione di cereali biologici, che trasformiamo all'interno del nostro pastificio completamente biodedicato. Quindi è un'attività molto importante, che ancora oggi basa soprattutto, dà molto valore a quella che è l'attività culturale. Abbiamo una rivista mediterraneo, abbiamo una fondazione che si occupa di tutte le attività culturali e quando possiamo coinvolgiamo anche le scuole. Abbiamo una fattoria didattica con uno dei soci fondatori che dà il benvenuto a tutte le scuole, dall'asilo all'università e poi da ormai numerosi anni partecipiamo con l'alberghiero di Pesaro, che è stato lungimirante, a un'iniziativa culturale che è quella di Corto e Mangiato, che è un festival dei cortometraggi dedicati al cibo biologico e alla sostenibilità ambientale. Quest'anno il tema è quello delle energie rinnovabili, siamo molto contenti di questo tema perché crediamo che il biologico da solo non basta a determinare la qualità delle scelte di vita, è importante che per chiorenza si sposi anche tutta un'altra serie di attività, come appunto quello di produzione di energie rinnovabili. Ci può fornire qualche dato sulla produzione? Voi fate una produzione praticamente per l'Italia o esportate anche? La nostra cooperativa ad oggi esporta il 90% di quello che produce, lavoriamo in più di 20 paesi, nei mercati sia europei che fuori dall'Europa, come gli Stati Uniti, il Giappone o la Nuova Zelanda. L'export quindi è una parte considerevole, anche se devo dire che nonostante la crisi anche in Italia stiamo crescendo più che all'estero, quindi vuol dire che la sensibilità delle persone è aumentata e anche c'è sempre più consapevolezza su quello e si dà sempre più importanza a quello che si mangia. Bene, grazie mille amici di Onda Libera, un saluto.